Abbiamo appena intitolato la via antistante la sede della Camera di Commercio a Salvatore Rognetta, il primo presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria. L'abbiamo scelto di intitolarla oggi in occasione del 160esimo anniversario. Si è appena conclusa anche la manifestazione della Camera di Commercio dove sono stati premiati 12 imprenditori della nostra città. Salvatore Rognetta, storico imprenditore di questa città, già 160 anni fa era un visionario, aveva una visione, è stato precursore di tante necessità della nostra provincia, della nostra adesso città metropolitana. Ne voglio nominare una su tutte, già allora nel 1862 scriveva agli enti di governo centrale sollecitando la costituzione del porto di Reggio Calabria.